In questi giorni e in queste ore si decidono le sorti dell'aeroporto di Comiso. Domani si riunirà l'Assemblea degli azionisti della SOA con la società di gestione attraversata da una crisi di liquidità e dalle strutturali passività di bilancio che mettono in pericolo l'operatività dello scalo e comportano il rischio concreto della sua chiusura. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2017 e la sostituzione del consigliere d'amministrazione Michela Stancheris, l'ex assessore del governo regionale Crocetta che siede nel board di Soaco in rappresentanza dell'Intersac e che ha rassegnato le dimissioni. La seduta sarà importante anche perché il consiglio d'amministrazione riferirà agli azionisti nella persona del sindaco di Comiso e dei liquidatori dell'Intersac sull'iter che dovrebbe portare all'affidamento in affitto della gestione del Pio La Torre. Il 12 giugno scorso in prefettura, quando prendeva corpo la svolta drammatica sui conti della Soaco, sempre in rosso dall'apertura e sull'assoluta mancanza di soluzioni in conseguenza della liquidazione di Intersac, si tenne una riunione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, organi amministrativi, azionisti, istituzioni interessate e si decise di tentare la carta, ultima e disperata, dell'affitto. Dopo la pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse, ora si tratta di decidere. Il consiglio d'amministrazione vuole l'ok degli azionisti per andare avanti. Se questo via libera arriverà, il CDA nelle ore successive potrebbe decidere l'emanazione del bando con tutti i requisiti e il prezzo relativo per la scelta dell'operatore che con la formula dell'affitto del ramo d'azienda dovrà gestire l'aeroporto fino a quando non si chiuderà la quidilazione della partita Intersac e l'assetto azionario della Soaco potrà aprire una nuova fase. Il bilancio che domani sarà sottoposto all'approvazione dei soci presenta un passivo di gestione per il 2017 di 2.340.000 euro, circa 550 in meno degli anni precedenti, per alcuni risparmi di spesa ottenuti attraverso la rinegoziazione dei contratti e un'intensa spending review. Ma i numeri sono impietosi. Da quando l'aeroporto è aperto ha bruciato una media di 2.800.000, 3 milioni l'anno, scesi a 2.340.000 nel 2017. Ma ci vuole ben altro perché su Comiso gli aerei possano volare. Grazie a tutti.